Buona prima ragazzi qui Giustizio e oggi siamo tornati in questo nuovissimo video ragazzi Video incredibile, video incredibile perché lo scoprirete tra poco Prima di iniziare vi ricordo come al solito di scaricare OneFootball Migliore applicazione per i risultati di notizie sul calcio Gratuita per qualsiasi sistema operativo La trovate in descrizione come ogni video E in più se vi servono magliette da calcio Come sempre ragazzi UFO Calcio vi aspetta col coupon Giustizio ragazzi Un, ho detto ragazzi, 48 volte Non sono più abituato a fare video, non sono più uno youtuber ragazzi Non sono più uno youtuber Comunque oggi, oggi ragazzi Back to the past, non back to the future come il film Back to the past perché torniamo su FIFA 17 E' stata, FIFA 19 diciamo ha perso quell'appeal E ancora non c'è abbastanza appeal su FIFA 20 Quindi ho detto perché non tornare indietro nel tempo Torniamo indietro nel tempo a un capitolo a me molto caro Parliamo di FIFA 17 Ci abbiamo già giocato in streaming Grazie agli Access, ve lo dico per chi fosse possessore di Access Potete scaricarvi tutti i capitoli precedenti di FIFA gratuitamente Quindi anche se non li avete comprati Ma avete gli Access, avete FIFA 19 Potete scaricarvi tutti i FIFA precedenti Io li ho scaricati Quelli che ho giocato sull'Xbox Quindi da FIFA 16 in poi Ragazzi lasciate tanti like Così vi porto anche gli altri capitoli Come già stiamo facendo in streaming Allora vediamo un po' come sembrava, come appariva l'ultimate team di FIFA 17 ragazzi Capitolo a me molto caro perché è stato un po' il punto di rottura Tra i FIFA for fun e i FIFA competitivi Metto le virgolette perché FIFA competitivo non si può sentire Però nel senso la prima, il primo capitolo dove è stato inserito il FUT Champions Il mio livello fantastico argento 3 ragazzi Come concludere FIFA al meglio con un fantastico argento 3 Quindi se non andiamo qua sulle classifiche Scopriamo che io ho fatto ben 9 vittorie su 12 partite Bella pippa Però io vorrei vedere a livello mensile Come ero messo Come si fa a cambiare Uh mensile Quindi nell'ultimo mese io di FIFA 17 feci 25 win su 30 partite Per bacco, quasi un pro player direi Quasi un pro player Figata questa cosa Vi ricordo che ovviamente c'erano 40 partite Cioè argento 3 lo avevamo a 8 vittorie Eh, oro 3 lo avevamo a 18 vittorie Adesso sta a 14 Quindi la differenza era, era, era abbastanza 25 win era oro 1 Adesso è fuori classe 2 per intenderci Quindi I top 100 I top 100 dell'ultima settimana Team Latka Ma, ma ragazzi ma Ma, 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 ma Poggers Poggers Non mi ricordo assolutamente niente di questo gioco Soprattutto per quanto riguarda il FUT Champions Qual era la cosa buggata su FIFA 17? Chi si ricorda che cosa era buggata su FIFA 17? Su FIFA 18 erano i driven Ne lo sappiamo Su FIFA 17? Bella domanda Comunque ragazzi mi sembra scontato Farvi vedere Farvi vedere Innanzitutto i pacchi I pacchi perché la prima cosa In streaming qui avevamo fatto Dei draft Abbastanza ambigui Se volete vi porto un draft anche su Retro draft Poggers Vediamo un po' di overall di giocatori Perché soprattutto c'era Cristiano Ronaldo alla Juve Ragazzi ma in qualsiasi FIFA precedente a FIFA 19 C'era Cristiano Ronaldo alla Juve Cioè no alla Juve Vedi che già mi sbaglio Al Real Madrid e questa cosa Già mi perplime Batland Footies Queste erano emozioni vere No i footies che hanno messo adesso I footies che hanno messo adesso Non ci hanno senso secondo me Perché non Quest'anno Correggetemi se sbaglio Non ci sono stati quei giocatori Ultra Buggati Che dici Esce footies E' finita per il mio avversario No Mentre su FIFA 17 Batland Footies Voleva dire E' finita per il mio avversario Non segnerà mai Batland Footies Ragazzi era un qualcosa di illegale 1,96 Ma questo giocatore Era legale oppure no Poi Kyle Walker Vabbè questi sono tutti i primi proprietari Perché ovviamente Gli aggiornamenti Campionati Che quest'anno Non hanno messo Droppavano in una maniera Clamorosa Clamorosa Kyle Walker Penso di averlo trovato lì Dovrebbe essere uno scambiabile Non ne sono sicuro Lo controlliamo Lo scopriamo subito Infatti è uno scambiabile Poi abbiamo Michael Keane Che era un mostro Questo qua era Buggatissimo ragazzi 89 Voi direte Bella busta Tozzo Ovviamente questa è la versione Del Champions Ma questo qua era fortissimo Smalling Footies Un altro Cioè FIFA 17 Era il covo del bug Ragazzi Il covo del bug Dove sono questi Buggati adesso Che tu dici Ok i bugati li odi Magari Li ami e li odi Invece adesso Non c'è più questo bug Clamoroso Cioè dici sì Lo zanno Ok Dici Fred Fred Footies Ma che mi rappresenta Chi mai ha utilizzato Fred Ragazzi Forse il primo mese Vabbè Questo è una sorta di Ragionamento Cioè non ci stanno più I Footies Si stava meglio Quando si stava peggio Non ci sono più Le mezza stagioni Allora Luke Shaw Dele Alli Young Player of the Year Pazzesco Anche lui Pazzesco Non c'era manco le 4 di skillet Era pazzesco Dembele Footies Pure lui un altro Un altro campione Questo era veramente fortissimo Cantepodi Cantepodi 603 partite No Ho capito Cantepodi ragazzi Era addio Era addio Come tutti questi giocatori Questo era il primo POTM In assoluto uscito Su qualsiasi FIFA Da FIFA 17 C'erano le SBC E questo è stato Il primo POTM In assoluto Rilasciato Su FIFA In qualsiasi FIFA Il primo in assoluto È stato questo Stelling 84 Una cosa assurda Cioè era una pippa Cioè dopo un mese Che ce l'avevi fatto Era una pippa Però la rarità Della carta Quanto era speciale Questa è come una moneta Come la prima moneta Cognata dell'euro Il primo euro Cognato Ecco Questo è il primo POTM Rilasciato Fantastico Fantastico Poi c'era Juminson Che era qualcosa di illegale Questa carta 89 Chi non si ricorda questa carta Sta mentendo Se avete giocato a FIFA 17 Ve la ricordate per forza E poi c'era Zlatan Ibrahimovic Che avevo scartato E poi l'avevano rimesso Come migliore Best of SBC Come stanno facendo un po' adesso E l'avevo rifatto Giustamente Perché era mostruoso Salate la Roma Ragazzi Qui i romanisti Qui i romanisti La lacrimuccia dei romanisti La vedo tramite L'obiettivo della telecamera La lacrimuccia dei romanisti Lasciate like Un like Una preghiera Per Salah 90 della Roma Ragazzi 4 stelle 4 stelle Tra l'altro Questa carta Averla su FIFA 19 Sai che buchi che ti fa Questo Salah con 4-4 I buchi per terra Stevie G Endovanira Mamma raga Più forte delle prime moments È una cosa assurda Più forte delle prime moments Poi Andiamo a vedere Nel nostro club Spolpiamo questo Higuain 98 Tots Totti Endovanira Ercapetano Si Lam Endovanira Suarez Insigne Tots Mamma raga Quanta roba c'avevo pure qua Alonso Endovanira Lampard Endovanira Qui mi sta scendendo L'algrimuccia Con tutti questi Endovanira Casemiro Guardate che FIFA 17 Fu veramente L'anno in cui si ritirarono Un sacco di bandiere È una cosa assurda Casemiro Filippo e Luis Ciruzzo Ciruzzo Lukaku Un altro Son 90 Questo lo trovai due volte Lo dovetti scattare Cioè raga Le cose più belle Mbappé 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 89 Young player of the year Della Ligan Aveva 3D skill Mo c'è una 5 Aveva 3D skill Mbappé Timo Werner Questo era fortissimo Un paio di if Marchi inoscambiabili Sempre Nzonzi Grande Nzonzi Fenomenale Qualche altro Futtis Bagato Sané Sterling Musa Mamma Musa Futtis Ragazzi Io non c'ho parole I Red In Form Del Food Champions I Barbo 91 C'è 91 Magari 81 Mbappé 74 Mbappé 74 Argento No vabbè ragazzi Troppi ricordi Non ce la faccio Troppi ricordi Troppi ricordi Vediamo se riusciamo a tentare la fortuna Ragazzi Anche su FIFA 17 Con un pacchetto Fantastico Da 7500 crediti Vi piaceva di più FIFA 17 O FIFA 19 Vabbè FIFA 19 Diciamo è stato un po' Diciamo non è piaciuto a tantissimi Però rispondere a questa domanda Perché comunque questo è stato il primo capitolo con il Food Champions Lo ripeto Quindi magari Per alcuni è stata tosta Perché comunque è una novità Ambiguo 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 Comunque io ogni FIFA mi lascio con la squadra dei non scambiabili Guarda questa che figata Tutta viola Tutta rosa Mamma mia che bello ragazzi Che ricordi Che ricordi Questo l'allana pure era bello Pure Mreciano Rosso Me l'ero perso Questo che era IF Mi sa E questo pure 131 partite Ci ho fatto Mica me lo ricordavo Poggets Le SBC Regà Le SBC Qui ancora c'erano Le leggende Se non sbaglio C'erano ancora le leggende Bella domanda Io mica me lo ricordo Però lo scopriamo subito Lo scopriamo subito Perché andiamo a cercare Non Credo ci siano le leggende Perché non vedo SBC delle icone Quindi Se noi cerchiamo Dei SAI Non c'è sul mercato Però dovrebbe essere leggenda Se noi cerchiamo Bear Camp Per esempio Esatto Ce n'è una sola Ce n'è una sola Quindi Ok Però io voglio andare a cercare Campionato leggende Leggende Quando erano solo su Xbox Quando eravamo ancora Un'elite privilegiata Ragà Un'elite privilegiata Eravamo Eccole qua le leggende E invece adesso Queste icone Te le tirano dietro Qua anche se trovavi Su sto Fibo Una leggenda scarsissima Tipo questo Fowler Era una sculata Ragà Era una sculata Perché erano le leggende Guardate che figata Lo stemma delle leggende Ma le leggende Erano troppo leggendarie Erano proprio leggendarie Certo Non ci stanno Nessuna top icon Cioè top icon E icon Ha detto che si chiamano leggende Nessun top legends In the market Solo le Un po' le bustine Diciamo Rui Costa Busta era Busta rimane Su FIFA Ovviamente Andri Shevchenko Però Mi suscita delle emozioni Guardate che figata La carta oro No raga Troppi ricordi Troppi ricordi Lasciate un mi piace Ragazzi Se volete vedere Il draft Della muerte Su FIFA 17 Cerchiamo di fare Il record Dei record Dei record Anche se non mi ricordo Quale fosse il record Noi ci becchiamo Alla prossima Vi ringrazio come sempre Per la visione E niente Ciao 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 Ciao